buonasera a tutti ragazzi sono incazzato nero incazzato nero oggi c'è stata serata di premier league è appena finita manchester arsenal un bel pareggio 2 a 2 indovinato pareggio everton newcastle indovinato fulham leicester indovinato tottenham southampton vittoria tottenham indovinata burleigh liverpool vittoria liverpool indovinata wolverhamton chelsea chiaramente due ci avevo messo solo che il buon sarri ha la malaugurata idea copio tracet tradotto che possano ucciderlo chiaramente metaforicamente ancora qualcuno si scandalizzi di mettere le riserve di perseverare in quella bruttissima abitudine che aveva a napoli di esasperare con il turnover e ha perso il buon sarri 2 a 1 a wolverhampton bravissimo complimenti 328 euro andato in fumo grazie 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 mago sarri più che mago sarri mi sembra il secondo zeman questo qui anzi zeman magari era sfigato ma lo era con i titolari magari zeman in campo metteva i titolari non andava a turno vabbè approfitto di questo del collegamento di sarri per parlare un po di napoli l'altra sera non fece il video non fece in tempo napoli atalanta e napoli ed ancelotti allora allora cosa penso del napoli di quest'anno penso che ancelotti detto da lui stesso si sta napoletanizzando nel senso che napoletanizzando nel senso e non è una cosa non è una cosa positiva per gli amici napoletani no per napoletanizzando nel senso di far giocare gente gradita la piazza snaturando il suo schema di gioco uno schema di gioco quello di ancelotti che ha sempre previsto almeno una punta centrale diciamo anche di peso di fatti l'unica volta l'unica squadra con cui non ha vinto nulla ancelotti è stata la juventus che aveva come punta centrale il peggiore in zaghi di sempre diciamo comunque comunque anche perché a parma aveva crespo a milano aveva scevcenco a londa col celsio aveva drogba a parigi aveva ibrahimovic a madrid aveva benzema quel benzema che guarda a caso voleva portare a napoli e niente il buon ancelotti stava buttando un'altra partita che stava anche rischiando di perdere a bergamo per con il 4 4 2 con la coppia d'attacco leggera perché insigne e insigne e il padrone di casa a napoli mertens a napoli lo chiamano ciro a ergo è praticamente intoccabile quando ha vinto la partita ancelotti quando ha inserito la punta centrale milic niente se i napoletani vogliono vedere alzare qualche trofeo devono pensare meno all'empatia e pensare più alla pragmatica se ancelotti vuol vincere qualcosa con napoli lo deve fare con milic in campo altrimenti natura il suo gioco di fatti quando il napoli ha vinto qualcosa a prescindere da chi scendeva in campo quando ha avuto allenatori non empatici con la piazza non l'era empatico bianchi non lo era bigon e non lo era benitez come siccome non lo era mazzarri gli ultimi a portare qualche trofeo a napoli tutto questo ecco perché quello è in questo senso dico io che ancelotti sbaglia a napoletanizzarsi dopo si è ripreso alla fine ha messo milic ha vinto la partita tutto qua se difatti a belgrado con una difesa rocciosa ha fatto 0 a 0 con la coppia leggera lì ci andava il signor milic quelle sono partite che devi schiarare la punta pesante e comunque ancelotti ha sempre avuto un attaccante di peso nelle sue squadre quando non l'ha avuto non ha vinto nulla vedi juventus addirittura inizio carriera a parma ancelotti pur di non snaturare i suoi schemi fece cedere zola al celsi zola che era il miglior giocatore del parma lo fece vendere al celsi tutto qua quindi caro ancelotti e cari napoletani anzi cari napoletani se volete vincere qualcosa scordatevi l'empatia l'empatia della con la piazza ancelotti se snatura se stesso il napoli farà un gran calcio ma non vincerà mai nulla così come non vincerà mai nulla il signor sarri e lì il signor abramovic ha molta meno pazienza di de laurentis quindi oggi il tanto sarri del decantato gioco e quinto in premier league e quinto dietro tottenham e arsenal ad oggi ad oggi non andrebbe nemmeno in champions giudicate voi come la stagione del signor sarri nonostante il bel gioco all'olandese come diceva qualcuno vabbè raga iscrivetevi al canale fatevi guadagnare almeno quei soldi che ho perso grazie al signor sarri stasera ciao e buonanotte fatevi guadagnare al canale